e allora nuovo appuntamento con la nostra tv week asset management è la settimana all'insegna di questo di questo settore di questo argomento sicuramente importante a cui stiamo dedicando ampi spazi con ospiti illustri e affrontando i temi più caldi insomma su questo fronte lo vedete anche nel nostro titolo il campionato nascosto le strategie dei grandi investitori oggi insomma abbiamo deciso di associare ogni tavola in qualche modo con riferimenti sportivi faremo anche sentire un intervento diciamo così che relativo insomma a come e in che modo in che tempistiche si raggiunge la perfezione dal punto di vista sportivo e chissà che insomma queste strategie non siano anche applicabili all'asset management in generale quindi alle strategie dei grandi investitori da cui appunto il nostro titolo il gioco di squadra di investitori istituzionali e asset manager ricordiamo come gli investitori istituzionali portano sulle spalle grandi importanti responsabilità e le sfide che affrontano ogni giorno sono sicuramente complicate cambio di portafogli e riesame delle strategie di investimento sono attività fondamentali per raggiungere i risultati prefissati gli asset manager sono accanto a loro per supportarli nelle scelte e realizzando prodotti in grado di soddisfare le esigenze dei grandi investitori insomma il team affiatato è fondamentale per raggiungere il successo noi snoccioleremo questi argomenti e poi adesso andremo anche nel dettaglio con i nostri ospiti che sono già qui in nostra compagnia io ve li presento a partire da luca ruggeri direttore generale fondo gomma plastica buongiorno e grazie per essere qui con noi buongiorno grazie anche ad andrea mariani direttore generale fondo pensione pegaso buongiorno anche a lei buongiorno a tutti un ringraziamento a corrado galeasso board del comitato investimenti immobiliari fondo pensione unicredit corrado grazie e buongiorno buongiorno un saluto ad agostino cingarvini direttore generale fondo pensione mps buongiorno agostino buongiorno a tutti e un saluto anche a paolo bordi ed of institutional sales edmond de rothschild paolo grazie per essere in nostra compagnia grazie dell'invito e buongiorno a tutti ovviamente il nostro ringraziamento per aver accettato il nostro il nostro invito allora l'intro l'abbiamo fatto vi abbiamo dato qualche indicazione che poi appunto andremo a mettere insieme e a spiegarvi nel dettaglio che cosa che cosa quali saranno i temi che affrontiamo oggi io comincerei subito da luca ruggeri ripeto direttore generale fondo gomma plastica perché insomma cerchiamo cominciamo a diciamo dalla base e quindi proviamo a descrivere brevemente l'attività e i numeri che contraddistinguono il fondo pensione che ciascuno dei nostri ospiti in qualche modo rappresenta e allora luca ruggeri direttore generale fondo gomma plastica partiamo da lei prego a lei la parola buongiorno a tutti grazie per questo invito il molto brevemente il fondo gomma plastica il fondo ovviamente del settore plastica gomma e cavi è un fondo che ha circa 50 mila iscritti è un attivo di circa un miliardo a 700 milioni la strutturazione del fondo è la classica strutturazione del fondo pensione negoziale con un comparto bilanciato 70 obbligazionario 30 azionario che costituisce diciamo la gran parte del fondo sostanzialmente nell'intorno del miliardo a due e altri due e altri due e altri due comparti uno dinamico con la prevalenza azionaria 60 per cento e l'altro il chiamato conservativo il bianca la possibilità per gli iscritti di combinare le il presente in due comparti in maniera da creare una situazione rischio rendimento che non sia quello del singolo comparto per quanto ci riguarda molto sinteticamente la strutturazione è piuttosto tradizionale anche se abbiamo iniziato diciamo un paio di anni fa unitamente da altri fondi tra cui c'è anche il collega andrea mariani a porre in essere investimenti in private assets inizialmente con il progetto iride quindi private equity ed ora siamo anche in fase di investimento con il progetto zephyro intravedetta questo diciamo in estrema sintesi sono i nostri numeri perfetto grazie luca l'ha già fatto lei insomma una sorta di assist per andrea mariani e allora vengo da lei andrea direttore generale fondo pensione pegaso stessa domanda una descrizione breve dell'attività i vostri numeri che contraddistinguono in qualche modo il fondo pensione eh pegaso prego lei la parola buongiorno a tutti grazie di questa preziosa occasione credo la terza volta che partecipo all'evento dei dei fonti tipi ehm il collega luca e amico luca mi ha semplificato il compito dal momento che eh essendo fondi pensione in un range abbastanza ravvicinato abbiamo caratteristiche simili. Pegaso è il fondo pensione per i dipendenti dei servizi di pubblica utilità in particolare eh siamo rivolti a quelle aziende che applicano i contratti gas acqua ed elettrico eh le nostre principali aziende sono gruppi come ERA, 2A, CEA, IREN ma abbiamo anche aziende molto grandi, importanti come acquedotto pugliese, la SMAT di Torino, Veritas a Venezia e fino a cinquecento aziende sparse in tutta Italia. Eh abbiamo trentaquattro mila iscritti su un potenziale di cinquantasette mila quindi siamo intorno al sessanta per cento del tasso di adesione abbiamo superato da poco eh il miliardo e trecento milioni di euro. Anche la nostra offerta è divisa in tre comparti eh dinamico bilanciato e garantito il nostro dinamico è un po' meno rischioso di quello di gomma plastic che la nostra componente neutrale azionaria è il cinquanta per cento il bilanciato dovrebbe essere molto simile il nostro è intorno al trenta per cento e poi abbiamo un comparto garantito. L'offerta probabilmente evolverà in un futuro ravvicinato partendo dalla questione del garantito di cui parleremo dopo. Eh abbiamo fatto questi eh diciamo progetti insieme ad altri fondi quale gomma plastica, previ moda, fonderegia, fopen e fondcer appunto definiti eh iride e zefiro per introdurre i private markets. Eh anche noi consentiamo di suddividere la posizione su due comparti. Abbiamo introdotto tre anni fa anche una strategia live cycle che automaticamente permette eh di passare dal comparto più rischioso e il dinamico fino al garantito all'avvicinarsi del momento del pensionamento. Questo per eh agevolare un utilizzo razionale dell'offerta del fondo pensione che fondamentalmente è implicita in quasi tutti i fondi pensione ma esplicitandola puoi aiutare di più chi magari non è non ha voglia o si dimentica di ribilanciare periodicamente il proprio la propria offerta finanziaria. Perfetto grazie Andrea e un ringraziamento anche a Corrado Galeasso perché è qui con noi nonostante insomma non sia possibile averlo eh anche eh in video ma per insomma motivi eh motivi che eh ci ha spiegato e anzi in ringraziamento due volte proprio perché comunque è riuscito a essere a far parte della nostra tavola rotonda. Allora la stessa domanda anche a lei board del comitato investimenti immobiliari fondo pensione Unicredit. Corrado. Bene grazie ancora a voi per l'invito e riassumo brevemente le caratteristiche del fondo Unicredit. Eh il fondo Unicredit è un fondo preesistente di origine bancaria che al suo interno una sezione a prestazione definita e capitalizzazione collettiva e una sezione a contribuzione definita e capitalizzazione individuale sezione quest'ultima che è articolata su tre comparti finanziari che si differenziano per l'orizzonte temporale di riferimento 3, 10 e 15 anni. Brevemente le differenze tra le sezioni. La sezione a prestazione definita eroga una pensione integrativa rispetto a quella pubblica mentre la sezione a contribuzione analogamente a quanto avviene per i fondi negoziali liquida invece il capitale cioè il montante contributivo maturato o in sottoforma appunto di capitale o sottoforma di rendita vitalizia a scelta dell'iscritto. Al 30 giugno 2021 gli ultimi dati aggiornati che abbiamo il nostro fondo aveva più di 74 mila iscritti di cui circa la metà pensionati. L'asset hunger management era di circa 5 miliardi cui vanno aggiunti altri 400 milioni circa che sono collocati dagli iscritti nel comparto garantito che è gestito però da una primaria compagnia assicurativa. Gli investimenti del nostro fondo vengono effettuati attraverso due veicoli di diritto lussemburghese, una SICAF per quello che riguarda gli investimenti liquidi e una SIF alternative per quello che riguarda gli investimenti illiquidi o cosiddetti alternativi. Perfetto, grazie anche a Corrado Galeasso per averci introdotto e per averci spiegato di cosa si tratta parlando appunto del fondo pensione che rappresenta Unicredit. È il momento di sentire Agostino Cingardini, direttore generale fondo pensione MPS. Direttore, a lei la parola. Grazie, di nuovo buongiorno e grazie ancora per l'invito. Il fondo pensione Montepaschi è un fondo preesistente e fa parte di alcuni dei fondi che garantiscono il welfare aziendale all'interno del gruppo Montepaschi. Sono nati nel 62, oggi con due fondi principali gestiamo circa 27 mila iscritti con una composizione complessiva di circa 2 miliardi e mezzo di asset. La nostra allocazione è attualmente suddivisa in 4 linee per fondo con profili di rischio crescente, quindi da una linea sostanzialmente obbligazionaria progressivamente sempre più esposta verso i mercati azionari. Tra le nostre attività c'è anche il pagamento delle pensioni, paghiamo circa 3 mila pensioni al mese e uno degli elementi più significativi che ci faranno ragionare anche nel futuro evidentemente in modo probabilmente diverso, è il fatto di aver previsto da 2020 la possibilità di accesso anche dei familiari fiscalmente a carico, un'iniziativa che ha avuto un grande successo abbassando in modo sensibile anche l'età di una parte dei nostri iscritti e conseguentemente dovendoci portare a fare dei ragionamenti anche per allocare correttamente questi asset in una prospettiva davvero di lungo periodo. Io adesso vado da Paolo Bordi che è head of institutional sales Edmund de Rothschild e per chiederle questo, gli ultimi due anni sono stati molto particolari, i mercati hanno resistito bene agli shock della pandemia registrando solo lievi correzioni, il peggio sembra finito, forse la fase in cui i reali contraccolpi dell'emergenza devono ancora iniziare e lo stiamo vedendo ad esempio in Europa in cui c'è un'inflazione schizzata nelle ultime settimane che può mettere i bassoni tra le ruote a una solida ripresa e ripartenza, insomma un contesto di incertezza, di stress, le strategie di lungo periodo in questo senso sicuramente possono mitigare i rischi, tra queste le strategie decorrelate potrebbero essere le più lungimiranti, ecco secondo lei in questo tipo di strategia questo tipo di strategia è effettivamente una buona scelta per chi come, e qui torniamo ai fondi pensione, hanno un orizzonte temporale lungo, i punti di forza di questo approccio e l'approccio di Edmund de Rothschild ovviamente negli investimenti di questo tipo. Paolo, a lei la parola. Allora provo a rispondere in questa maniera, se teniamo conto che solo il 30% del peso azionario globale contribuisce per circa il 90% del rischio totale dei fondi pensione, è chiaro che lo sforzo va indirizzato verso gli investimenti decorrelati alle borse mondiali e in effetti l'esempio all'estero dei fondi pensione già sviluppati è proprio quello che mostrano una diversificazione del rischio azionario con degli investimenti in attività reali, ovvero l'immobiliare, i commodities e le infrastrutture. I fondi pensione italiani che io sappia hanno già, cioè sono investiti nel real estate da anni e soprattutto le casse, anzi alcune di loro anche troppo, e hanno appena iniziato a investire in infrastrutture, però lo fanno soprattutto per quello che so attraverso lo strumento del private equity e non del private debt, cioè del debito privato, in realtà il debito privato sulle infrastrutture contribuisce di più alla diversificazione del rischio azionario perché riduce di più il rischio totale del portafoglio senza per questo ridurre il rendimento atteso globale e neanche un granché la liquidità. Spiegherò forse in seguito per questo concetto meglio. Con il debito sulle infrastrutture non ci si espone infatti ad un rischio azionario e neanche ad un rischio di credito, ma ad un rischio cosiddetto di project finance o infrastructure che può essere mitigato attraverso sia un'efficiente allocazione del prestito, sia attraverso opportune garanzie collegate alla strutturazione del debito. Quindi il debito può strutturarsi in modo da contenere la duration, attraverso il pagamento nel tempo di cedole che spesso incorporano il rialzo dei tassi e anche l'inflazione, quindi ottimizzano nel tempo anche il fabbisogno di liquidità. Ma al contrario l'equity sulle infrastrutture presenta un flusso di pagamenti molto polarizzato nel tempo che interviene tutto all'inizio, alla fine dell'investimento e oltre che ovviamente un profilo di rendimento rischio più elevato. Quindi un fattore qualificante è la tipologia dei progetti infrastrutturali che sono ambientati attraverso energie rinnovabili e che ambiscono a realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Devo dire che il nostro gruppo è da decenni, fa parte proprio del suo DNA, è impegnato nei progetti infrastrutturali a impatto immediato a livello ambientale e sociale ed ha una piattaforma di debito sulle infrastrutture a livello europeo che si chiama Bridge, che sta per Benjamin de Rothschild Infrastructure Debt Generation e che ha finanziato finora 80 progetti di investimento in 17 paesi europei per quasi 4 miliardi di euro. È una piattaforma di investimento indipendente esclusivamente dedicata agli investitori istituzionali come le compagnie assicurative e fondi pensioni. Per questo si pone nella top ten dei gestori a livello mondiale. Basti pensare che nel corso di quest'anno il nostro fondo di debito sulle infrastrutture che è arrivato alla quinta generazione ha già raccolto un miliardo e 300 milioni suddiviso in due comparti, uno di debito a signo e l'altro subordinato, con un rendimento obiettivo rispettivamente del 2,5 e del 5,5%. Ecco, questa è testimonianza del fatto che noi siamo molto attivi nell'asset management istituzionale e soprattutto disponiamo di un corredo molto adatto alla decorrelazione del rischio azionario che è quello prevalente nei fondi pensioni. Allora, la domanda è come avete affrontato questa situazione? dal punto di vista delle strategie di investimento, le asset class che avete magari maggiormente utilizzato durante l'emergenza della pandemia e com'è cambiato l'asset location in questi ultimi mesi? Luca Ruggeri, direttore generale Fondo Gomba Plastica, riparto da lei. Prego. Prima un brevissimo passaggio sulle conseguenze, per così dire, della pandemia. Inizialmente eravamo estremamente preoccupati per la parte finanziaria ma anche per la parte contributiva, aspetto che qui magari non è privilegiato, non è oggetto al risultato della tavola ma che a noi preoccupava molto. Devo dire che le imprese si sono comportate molto bene e visto che è un campione abbastanza rappresentativo del settore, sono 1.500 le imprese iscritte, non abbiamo avuto impatti significativi, anzi direi, non abbiamo avuto i propri impatti sulla parte contributiva, quindi l'alimentazione del fondo è proseguita serenamente. Per la parte finanza, che era l'altro grande tema, la reazione delle banche centrali e degli stati è stata estremamente robusta e come tutti sappiamo ha consentito di conseguire comunque ottimi risultati nel 2020. Da parte nostra non reputavamo opportuno in quel momento modificare la strategia significativamente, ci sembrava che fosse anzi un momento di verifica della bontà della nostra locazione. di fatto a posteriore non possiamo, posso dire con una certa tranquillità che è stata la scelta giusta, anzi abbiamo confortato gli iscritti dicendo loro di, tranquillizzandoli e evitando passaggi switch improbabili nei momenti peggiori. Su un piano di lungo respiro la scelta è stata quella di iniziare ad allocare qualcosina sui private market. Certamente come hai già detto che mi ha preceduto il sistema italiano, i fondamentali italiani arrivano con calma su questo settore per tanti motivi, però devo dire che le iniziative congiunte hanno contribuito secondo me a smuovere il mercato e quindi abbiamo iniziato con private equity, poi siamo passati a private debt. In questo siamo molto soddisfatti dell'andamento, abbiamo alzerato la J-curve quindi nell'arco di un anno, un ottimo risultato a mio avviso. L'anno prossimo dovremmo rivedere i DPI, documenti sulla politica degli investimenti per causa della scadenza triennale e stiamo già lavorando su questo aspetto in un'ottica, senza voler anticipare le decisioni che sono poi le CDA, di mantenimento di una percentuale costante nel tempo di private assets variamente costruiti. Cosa verrà poi deciso in questo momento io non sono in grado di dirlo, però condivido l'interesse a livello personale sulle infrastrutture non fosse altro anche per gli investimenti che a livello europeo verranno effettuati in quel settore, quindi sarebbe il momento giusto per valutare, perché fino ad oggi, va detto, l'offerta in Italia era effettivamente limitata e quindi ha costituito anche un freno allo sviluppo da parte alle... Tenete un attimo Luca Ruggeri, mi perdoni, perché è subentrata una musica di accompagnamento che per quanto piacevole impedisce di ascoltare delle parole di Luca. Non so se è arrivato da qualcuno dei nostri ospiti in collegamento o altro, però vedo che non è più presente, quindi direttore, mi perdoni se l'ho interrotta, pochi istanti fa le restituisco la parola ma veramente non riuscivamo più a sentirla. Nessun problema, se figuri. Niente, l'ultimo passaggio riguardava diciamo il futuro, dobbiamo rivedere per la scadenza triennale i documenti sulla politica degli investimenti e in questo contesto l'idea è quella di valutare una maggiore presenza di private assets e anche una diversa composizione eventualmente valutando altri settori di intervento. Chiaramente sarà poi consiglio all'amministrazione a decidere cosa fare, però a livello personale devo dire che le infrastrutture sono un settore estremamente interessante anche visto i massicci investimenti che sono attesi proprio grazie a PNRR. Quindi colgo diciamo così il suggerimento di chi mi ha preceduto su questo aspetto. E questo mi permette anche di dire che ovviamente se al di là delle domande che vi rivolgo poi se vorrete integrare magari qualcosa di quello che ha detto l'ospite precedente a voi, insomma siete ovviamente liberi di farlo e di ricongiungervi in qualche modo. Stessa domanda per Andrea Mariani, direttore generale Fondo Pensione Pegaso, insomma strategie di investimento che hanno permesso di affrontare una situazione sicuramente nuova e le asset plus che avete maggiormente utilizzato durante l'emergenza e anche in virtù di quello che è cambiato e di come è cambiato l'asset location in questi mesi. Mariani, prego. Approfitto ancora della disponibilità del collega che ha anticipato molte cose che avrei detto anch'io e quindi non le ripeto. Sulla diciamo sullo scenario dei mercati la situazione è stata la medesima, noi non abbiamo fatto degli interventi durante la fase di crisi perché non è il ruolo del fondo negoziale quello di intervenire nel momento di crisi ma di verificare se quello che ha costruito sta reagendo bene a questo momento ossia non abbiamo una capacità tattica di intervenire, la capacità tattica dei gestori la nostra è una capacità strategica di costruire un quadro dentro cui bisogna già prevedere anche situazioni come quelle del primo trimestre del 2020 e condivido il fatto che il sistema ha retto abbastanza bene. Poi abbiamo fatto degli interventi di manutenzione tra la fine del 2020 e inizio del 2021 perché eravamo a metà della durata quinquennale dei mandati quindi abbiamo aggiornato il benchmark, abbiamo fatto dei piccoli ribilanciamenti ma non legati diciamo al momento di crisi ma a una gestione periodica dei nostri investimenti abbiamo questa scadenza triennale del DP che onestamente ormai devo dire aggiorniamo anche con frequenza annuale per cui il triennio neanche ci si avvicina più tra gli investimenti in private markets manutenzione di metà mandato ormai diventa un'attività molto più frequente di quanto lo avevamo previsto all'inizio sicuramente faremo interventi un po' più rilevanti fra la fine del prossimo anno 2022 e nella prima parte del 2023 perché scadranno gran parte delle convenzioni e quando scadono le convenzioni c'è anche l'intenzione di verificare se c'è da aggiornare in modo più incisivo l'asset allocation del fondo in particolare partirà tutto dalla questione del garantito perché noi scade la convenzione decennale del garantito e il mercato dei comparti garantiti per i fondi contrattuali è cambiato radicalmente e questo comporta a cascata tutta una serie di riflessioni anche sugli altri comparti perché l'offerta di un fondo pensione è un'offerta integrata quindi cambiando qualcosa su una parte è possibile che si debbano fare riflessioni anche sugli altri comparti il tema delle infrastrutture è precedente lo avevamo già previsto quando abbiamo introdotto i private markets avevamo pensato di introdurre tre asset class private equity, private debt e infrastrutture 10% nel bilanciato e 15% nel dinamico questo è il nostro orientamento come Pegaso ora stiamo iniziando a riflettere come introdurre le infrastrutture quanto ha detto Paolo sul debito piuttosto che sull'equity è molto interessante sarà uno dei temi su cui riflettere non è escluso che si possa avere anche un approccio ibrido alle infrastrutture a cercare investimenti che tengano conto sia di private debt sia di debito sia di equity per diversificare anche questo tipo di investimento in termini prospettici la cosa su cui siamo un po' dubbiosi è capire come si esce fuori da una pandemia a livello di mercati finanziari ossia l'intervento molto importante delle banche centrali e dei governi è stato efficace nel 2020 lo potrà ancora essere in futuro con inflazione crescente i tassi di interesse crescenti o anche questo tipo di put politica potrebbe incontrare i suoi limiti e se incontrerà i suoi limiti cosa succederà sui mercati finanziari questo è un po' lo scenario che stiamo vivendo ormai da 10 anni in qualsiasi momento di crisi intervengono le banche centrali adesso possiamo dire che intervengono le banche centrali e i governi ma questa cosa troverà dei suoi limiti o rimarrà una costante del nostro rendimento perché questo influenza anche il tipo di scelte che facciamo a livello di gestione del rischio in qualche misura stiamo vivendo un regime del rischio dei mercati finanziari che non ha facili precedenti negli ultimi 20-30 anni e questo sicuramente è un elemento che a livello strategico dobbiamo tenere presente Prima dicevo direttore Andrea Mariani lei ha anticipato il suo intervento dicendo approfitto insomma alcuni temi che Luca mi ha messo sul piatto avevo scherzato dicendo beh lei poi non ha neanche bisogno di agevolazione essendo il veterano diciamo in queste tavole rotonde essendo insomma più volte intervenuto con noi ovviamente lo dico con il sorriso sentiamo che cosa ci racconta invece Corrado Galeasso come detto a bordo del Comitato Investimenti Immobiliari Fondo Pensione Unicredit Galeasso Allora il 2020 l'anno della pandemia per il nostro fondo pensione è stato un anno particolare perché si è concluso il processo di concentrazione con gli ultimi quattro fondi che ancora erano autonomi all'interno del gruppo bancario che sono stati incorporati dal nostro fondo la conclusione di questo processo ha poi visto la possibilità per gli iscritti alla sezione a prestazione di zainettare se attivi o di capitalizzare se pensionati il loro montante previdenziale ovviamente nel caso degli attivi che hanno fatto questa scelta la loro posizione è stata trasferita nella sezione a contribuzione definita mentre invece i pensionati che hanno scelto di capitalizzare si sono visti erogare in unica soluzione il valore attuale della posizione che in precedenza veniva erogata sotto forma di pensione perché questo ha avuto un impatto sul nostro fondo? perché ovviamente abbiamo dovuto procedere a una imponente operazione di derisking proprio nell'anno della pandemia e questa operazione di derisking ha comportato complessivamente un disinvestimento per circa un miliardo perché questa era la cifra che serviva per poter liquidare le posizioni dei pensionati che hanno scelto di capitalizzare come abbiamo fatto in un anno complicato per i mercati a ottenere questo risultato? Beh, principalmente abbiamo disinvestito dal mercato azionario cercando ovviamente di farlo nel periodo in cui dopo i mesi di marzo-aprile quando le quotazioni erano precipitate mano a mano che si riprendevano cercando di andare a intercettare i momenti buoni per poter appunto creare questa liquidità la parte restante ce la siamo procurata vendendo gli ultimi immobili che avevamo ancora in gestione diretta quindi noi nell'anno 2020 in realtà quali asset class siamo andati a popolare? Beh, con la liquidità che ci siamo procurati abbiamo investito nei sub-fund noi abbiamo i sub-fund perché come ho detto in premessa gli investimenti avvengono tramite una SICAF all'interno della quale ci sono sette sub-fund noi abbiamo investito questa liquidità nel sub-fund a breve termine in quello titoli di Stato e inflazione e abbiamo anche acquistato dei fondi monetari chiaramente mano a mano che il processo di capitalizzazione è andato avanti abbiamo anche liquidato questi asset che erano i più liquidi possibili in un anno appunto molto particolare quindi in realtà quello che riguarda la nostra politica di investimenti è più a valere sull'anno in corso perché come ho detto rispetto agli altri fondi agli altri investitori istituzionali per noi 2020 ha sommato le criticità della pandemia a quelle della necessità di andare a dismettere una parte importante del patrimonio per poter dar corso a questa operazione che era frutto di accordi sindacali preesistenti Perfetto, grazie Galeasso e allora la domanda la giriamo tale e quale ad Agostino Cingarnini direttore generale Fondo Pensione MPS insomma strategie per affrontare un biennio all'insegna di lockdown e ripresa le asset class maggiormente utilizzate e come è cambiato l'asset location in questi mesi Cingarnini, prego Cercherò di non essere ripetitivo perché coloro che mi hanno preceduto evidentemente hanno toccato una serie di temi che abbiamo analizzato anche noi come dicevo prima i nostri fondi hanno un perimetro chiuso sono riservati in via esclusiva a dipendenti e pensionati del gruppo Montepaschi per cui nel momento in cui si è verificato la situazione più critica nei mercati condividendo quanto detto da Mariani ovvero il fatto che noi sviluppiamo un asset allocation strategica che deve essere in grado di sostenere anche in momenti di maggiore stress dei mercati avevamo un tema invece rilevante per quanto riguarda il pagamento delle pensioni come dicevo prima per cui lo sviluppo della locazione della sezione a prestazione definita l'abbiamo analizzato abbiamo verificato insieme con gli advisor se fosse in grado di sostenere questo rischio fortunatamente era in grado di fare questo tipo di assistenza ai nostri iscritti e mantenendo ferma la direzione poi nel corso dell'anno abbiamo avuto performance che grazie all'andamento dei mercati che abbiamo visto tutti evidentemente hanno consentito di recuperare e di garantire agli iscritti delle performance sicuramente interessanti credo, riallacciandomi a quanto ho sentito prima che uno dei contributi sia arrivato anche da una parte di allocazione ai mercati privati già realizzata negli anni precedenti che evidentemente hanno consentito di dare un contributo ripeto interessante e importante per quanto riguarda le prestazioni fornite agli iscritti cosa diversa evidentemente in quella prima fase di criticità ma nel sporsiego si è invece valorizzato come tipo di asset class noi gestiamo direttamente un patrimonio immobiliare che se nel primo quarto del 2020 è stato sottoposto a logiche incertezze che si stavano verificando nella parte successiva dell'anno hanno consentito di generare ulteriore valore per cui dal punto di vista dell'allocazione abbiamo cercato di sottopesare ulteriormente il rischio di gestire in modo ottimale la liquidità partendo da quel grande beneficio che come dicevo prima è costituito dalla presenza per quanto ci riguarda di un fondo pensione inserito in una logica di welfare allargato per cui non abbiamo avuto il problema delle contribuzioni e conseguentemente non abbiamo avuto situazioni critiche da quel punto di vista devo dire che non abbiamo avuto nemmeno richieste aggiuntive di liquidazioni e conseguentemente il nostro flusso operativo ha consentito di muoverci nel solco già tracciato un ulteriore assist ci è arrivato dalla situazione che avevamo generato un paio di anni prima ovvero uscire un po' dai mercati governativi per investire in titoli corporate ed evidentemente anche questo è riuscito a sostenere la nostra situazione arriviamo alla fine di quest'anno con l'esigenza di mettere mano anche noi al documento sulla politica degli investimenti e evidentemente condivido tutte le osservazioni fatte in precedenza come dicevo veniamo da un'esperienza positiva sia per quanto riguarda il private debt sia per quanto riguarda il private equity che le infrastrutture credo personalmente che questo possa essere un fattore importante per il prossimo futuro valorizzandole davvero come asset class perfetto grazie direttore prima di andare avanti vi chiedo una piccola cortesia ai nostri ospiti se possibile durante questa nostra chiacchierata cercate vi chiedo cortesemente di non toccare nulla sulla piattaforma perché da quello che ho capito insomma anche a livello tecnico si vede eventuali comunicazioni via chat possono magari apparire durante la nostra chiacchierata quindi insomma vi chiedo per cortesia di non toccare il meno possibile diciamo la vostra piattaforma con cui siete collegati con noi ripartiamo con quello che abbiamo detto poco fa con Paolo Bordi Head of Institutional Sales Edmond Rothschild e cioè abbiamo detto come strategie decorrelate e di lungo periodo possono offrire una soluzione anche efficace per aumentare il capitale e contemporaneamente mitigando i rischi degli shock possibili potenziali sui mercati strategie decorrelate che spesso quindi guardano a grandi trend e settori come ad esempio l'accelerazione del processo della digitalizzazione o il settore delle infrastrutture un paio di esempi a questo aggiungiamo anche il fatto che sappiamo che il comparto obbligazionario negli anni ha perso parte ha perso scusate parte della sua efficacia nel generare performance interessanti a questo punto Paolo Bordi torno da lei e le chiedo quali sono le strategie che possono supportare le attività di investimento dei fondi pensione e soprattutto bisogna puntare solo sull'azionario o l'obbligazionario ancora diciamo così del valore inespresso Bordi beh dunque la componente obbligazionaria in un fondo pensione è sempre utile tanto più che poi ogni giorno le valutazioni di borsa non è che siano così attrenti in termini di price earning quindi quello che si può fare nel breve e medio termine quando soprattutto come oggi le attese sul rialzo dei tassi e dell'inflazione sono importanti è quello di trovare all'interno del mercato del reddito fisso una strategia più flessibile di gestione che non essere troppo inchiodati ad un benchmark ciò che può trarre vantaggio anche dal rialzo dei tassi e dall'inflazione andando anche a investire in andamenti specifici dei segmenti dei diversi segmenti di mercato noi abbiamo una strategia flessibile obbligazionaria che si chiama bond allocation che fa proprio questo manovra il rischio tasso il rischio duration da meno due anni a più otto quindi andando anche contro la scommessa diciamo l'evento inflazione quindi avvantaggiandosi tra traendo profitto dall'aumento di inflazione e quindi calibra l'esposizione al rischio dei segmenti del reddito fisso in funzione delle opportunità che di volta in volta si presentano quindi titoli indicizzati all'inflazione debito subordinato debito emergente sia governativo sia corporate e poi ovviamente investment grade e high yield e residualmente anche obbligazioni convertibili che hanno una caratteristica quella della convessità che li rende molto interessati quindi nell'ambito di una strategia del genere la componente controllo del rischio è un ingrediente fondamentale del processo di investimento infatti in una strategia del genere il gestore fa quasi ogni giorno dei test di stress sui diversi possibili scenari un'adeguata analisi sulla liquidità del portafoglio monitorando il VAR il value at risk su base giornaliera e una scomposizione anche del rischio ex ante su tutte le componenti del portafoglio del reddito fisso quindi questa è un po' una maniera di trovare profitto da un andamento che si prospetta molto difficile su fixed income ovviamente in questo caso su questa strategia l'uso dei derivati è uno strumento di previsione accurata della direzione dei mercati indispensabile e noi sappiamo che l'uso dei derivati spesso nel fondi pensione deve trovare posto in modo cioè si deve declinare con le disposizioni di legge e quindi noi sappiamo che questa strategia è di fatto può trovare posto nei fondi pensione e nell'ambito dell'efficiente uso dei derivati e così facendo si riesce veramente a manovrare la duration che per esempio oggi noi l'abbiamo a due anni e mezzo quando solo otto mesi fa era a sei anni e mezzo oppure possiamo come facciamo adesso investire in modo che la duration solo di un comparto i titoli governativi degli Stati Uniti in questo caso sia proprio negativa e anche l'esposizione rischio credito rischio inflazione è mutata considerevolmente nel tempo oggi noi preferiamo il rischio inflazione in Europa dove il picco è ancora davanti a noi piuttosto che investire nei titoli indicizzati all'inflazione negli Stati Uniti dove secondo noi invece il picco è già alle spalle e poi la velocità del cambio delle strategie sui singoli segmenti di mercato e delle fonti di rischio avviene attraverso appunto derivati non solo sui tassi ma anche proprio credit default swap che ci consentono di ridurre immediatamente o di aumentare il rischio credito senza dover incorrere nei costi di transazioni conseguenti alla ricalibrazione del portafoglio attraverso la vendita dei singoli titoli anzi noi cerchiamo di ridurre anche il rischio specifico dei singoli titoli ovvero il default risk tanto che abbiamo in portafoglio per questa strategia un numero molto significativo di titoli più di 4.000 e questo ci consente proprio di ridurre perché siamo diversificati su tantissimi titoli corporate e così riusciamo a ridurre il rischio specifico e se vogliamo cambiare il rischio globale lo facciamo attraverso appunto l'uso dei derivati i risultati ci danno ragione sia nel breve che nel medio lungo termine questa strategia in effetti ha dato dei rendimenti superiori sia alla media della categoria di strategie concorrenti ma anche agli indici obbligazionali stessi per esempio negli ultimi cinque anni che noi abbiamo calcolato quelli che terminano a settembre fine dello scorso mese il rendimento totale è stato del 14% che comparato con quello dei diversi indici obbligazionari è inferiore solo all'indice di titoli a yield che voi potete immaginare hanno registrato nel frattempo il doppio del rischio in termini sia di volatilità che di massima perdita rispetto a quello che ha corso questa nostra strategia quindi il comparto obbligazionario è connaturato al fondo pensione e in questa fase può essere approcciato con una strategia più flessibile Perfetto grazie Paolo a proposito di novità insomma di cambiamenti che hanno caratterizzato questo periodo beh insomma c'è un altro cambiamento che probabilmente si è verificato a causa di un ulteriore aspetto di un ulteriore diciamo così fattore esterno io mi riferisco alla normativa europea sugli investimenti sostenibili ne abbiamo già parlato in qualche modo sia di investimenti sostenibili e sia qualcuno ha fatto per quanto meno un accenno alla normativa europea questa normativa ha portato come dicevo a proposito di grandi cambiamenti una sorta di piccola grande rivoluzione da parte delle società di asset management e quindi la domanda è riparto da Luca Ruggeri direttore generale fondo gomma plastica speriamo che la musica insomma non si sovrapponga ancora una volta ma ripeto insomma non è di peso da lei né da nessuno dicevo questa normativa ha avuto un impatto anche sulle vostre strategie di investimento oppure no prego Ruggeri prego direttore diciamo che il tema degli investimenti ESG era un tema che era già l'attenzione del fondo da tempo è da qualche anno che nell'ambito della reportistica interna che viene prodotta dalla forza finanza e inviata al CDA avevamo un'analisi del rating ESG del portafoglio i limiti di questa analisi erano dal fatto che lo strumento che utilizzavamo non riusciva a coprire l'intero portafoglio detenuto quindi abbiamo sviluppato dei ragionamenti abbiamo confrontato vari prodotti peraltro con risultati per alcuni versi per allora un po' sconcertanti perché la lista dei cattivi per così dire non era sempre sovrapponibile cioè con uno strumento venivano i 10 peggiori erano alcuni nominativi con un altro strumento i 10 peggiori erano solo in parte condivisi diciamo che abbiamo fatto comunque da questo punto di vista diciamo in un'ottica di gestione del rischio un notevole lavoro è innegabile che la normativa europea abbia dato una spinta una forte spinta a questo aspetto e qual è stata la riflessione che abbiamo fatto abbiamo in corso con il supporto di un advisor esterno in questo caso questo si possa dire è numus abbiamo in corso come dicevo la predisposizione di una politica di sostenibilità più robusta più strutturata fermi restando i limiti del fatto che con i con i mandati in essere la capacità di intervento era relativamente limitata abbiamo però trovato da parte dei gestori una notevole disponibilità quindi la strutturazione che dovrebbe essere approvata breve siamo in caratteria di ultime verifiche prevederebbe delle esclusioni quindi su alcuni campi a partire da delle notissime armi controverse e una watch list su altri su altri settori il che ci consentirebbe quindi di poter affermare di avere un portafoglio pienamente rispondente ai criteri ESG lo stato dell'arte attuale è comunque più che soddisfacente perché come dicevo le analisi situate nel tempo indicano una percentuale di tutti i non conformi estremamente bassa quindi da questo punto di vista siamo piuttosto soddisfatti la nostra idea comunque è che l'ISG è destinato inevitabilmente a influenzare i comportamenti del sia degli investimenti investitori che dell'SGR l'idea quindi è quella di inizialmente proporre una politica sostanzialmente in buona misura in linea con le policy degli ESG delle singole SGR ma che cerchi comunque di ottenere un qualcosina in più nel tempo io penso anche in tempi abbastanza brevi sarà l'industria stessa ad allinearsi perché abbiamo rilevato una certa disomogeneità alcuni gestori sono estremamente attenti anzi hanno accolto con estremo piacere la nostra proposta di una politica molto strutturata altri insomma abbiamo dovuto negoziare un po' di più ecco però l'indirizzo è chiarissimo è pressoché inevitabile direi certo una tassonomia condivisa sarebbe un bel passaggio un bel un bel miglioramento perché una delle difficoltà che abbiamo incontrato nel implementare questa politica è che è data dal fatto che ogni gestore ha una sua database di riferimento ha una sua sistema interno di rating il risultato è che la politica del portafoglio di sostenibilità del fondo si deve in qualche modo scontrare con i limiti con i limiti strutturali legati ai singoli gestori ritengo che quando andremo a rinnovo dei mandati invece provvederemo in modo completamente diverso indicando fin dall'inizio la politica ilg come elemento qualificante nella scelta di gestori perfetto grazie direttore la stessa domanda e quindi il tema della normativa europea sugli investimenti sostenibili anche per Andrea Mariani direttore generale fondo pensione Pegaso innanzitutto è opportuno mettere a fuoco che la normativa europea su questi argomenti è stata a dir poco ipertrofica negli ultimi anni a volte anche con adempimenti e scadenze non sempre coerenti e a volte che anticipano i chiarimenti operativi in particolare sull'FDR sta per uscire il regolamento tecnico ma abbiamo dovuto fare una dichiarazione senza averlo quindi qualcosa su cui bisognerebbe interrogarsi se ha senso emanare norme ancora diciamo in via di definizione questo anche su aspetti strategici se non abbiamo ancora una visione chiara e condivisa a livello europeo di qual è la transizione energetica modello da seguire puoi chiedere di costruire a livello di singolo azienda o di singolo investitore determinate strategie non è semplicissimo questo è stato abbiamo sentito tutta la discussione sul nucleare sì nucleare no che per la Francia ad esempio è un tema fondamentale per loro il nucleare è green per molti altri paesi non è green così il gas naturale l'idrogeno blu e l'idrogeno verde quindi anche dal punto di vista valoriale se non vengono condivise prima alcune scelte è difficile capire qual è la transizione che dovremmo porre in essere sia come aziende sia come investitori detto questo noi abbiamo iniziato questo percorso nel 2013 abbiamo aderito i PRAI al forum della finanza sostenibile al CDP che è il Carbon Disclosure Project e così abbiamo sempre gradualmente incrementato le attività in essere nel 2018 abbiamo integrato in tutte le convenzioni un livello minimo di integrazione che è stato deciso insieme ai nostri gestori questo livello minimo di integrazione però varia da convenzione a convenzione e può essere più sfidante o meno sfidante in base alle processi gestionali che abbiamo posto in essere l'SFDR chiaramente ha cambiato le regole del gioco siamo noi che dobbiamo definire qual è il quadro di riferimento siamo noi a dire se siamo articolo 6 8 o 9 e noi abbiamo scelto di essere più bassi all'inizio articolo 6 nonostante molti dei mandati secondo i gestori poteva essere già classificato come articolo 8 però è chiaro che un articolo 8 a livello di fondo non è una somma di articoli 8 a livello di singolo mandato cioè devi costruire un quadro coerente come anche Luca ha ben richiamato al momento del cambio delle convenzioni si possono definire delle linee comuni e costruire l'articolo 8 a livello di fondo pensione questo è il nostro obiettivo quindi entro il primo semestre 2023 noi vogliamo costruire un articolo 8 per tutti i comparti mi sono anche chiesto se potremmo mai diventare in futuro articolo 9 questo è un po' più difficile secondo me per un fondo pensione perché l'articolo 9 avendo degli obiettivi sostenibili da dover raggiungere al momento sembra essere più coniugato con investimenti tematici investimenti più circoscritti dove avere un obiettivo sostenibile ha più senso ora però a noi la nostra missione è anche dare degli investimenti ben diversificati ai nostri iscritti che reggano la prova del tempo quindi un fondo pensione potrà essere l'articolo 9 questa è una domanda che chiaramente non è facile da risolvere però è qualcosa su cui ci dovremmo interrogare o magari immaginare che l'articolo 8 è il punto di arrivo diciamo più logico per un fondo pensione grazie 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 Mariani la parola passa il microfono anche se virtuale a Corrado Galeasso board del comitato investimenti immobiliari fondo pensione unicredit stessa domanda la normativa europea sugli investimenti sostenibili che impatto ha avuto nelle vostre strategie di investimento bene allora il nostro fondo già nel 2018 aveva approvato le linee guida per gli investimenti socialmente responsabili promuovendo da quel punto in avanti solo più investimenti in prodotti che avessero i requisiti ISG oggi i due terzi del nostro portafoglio rispondono a questi criteri perché ovviamente si tratta di riqualificare il preesistente che invece non aveva questo tipo di orientamento poi nel 2019 il fondo ha aderito a IPRI e quindi diciamo si è allineato ancora di più a questa impostazione ma nell'anno che abbiamo trascorso proprio l'accelerazione che la pandemia ha provocato sul processo di transizione che è ancora ovviamente in embrione da un'economia inquinante e poco attenta alle conseguenze per l'ambiente a una auspicabilmente più verde e sostenibile proprio per questa ragione in questi mesi abbiamo avviato un mandato con un primario operatore italiano per investire su asset sostenibili localizzati principalmente sul territorio italiano per fare qualche esempio in energie rinnovabili in infrastrutture in mobilità sostenibile e nella silver economy il controvalore iniziale di questo investimento è di 80 milioni che verrà poi suddiviso ovviamente in quote di fondi di private equity e di private debt quindi in questa tipologia di investimento parallelamente a questa iniziativa che riguarda ovviamente asset liquidi alternativi il nostro fondo anche recentemente introdotto e ha avuto già l'approvazione dell'autorità di vigilanza in Lussemburgo un nuovo subfund all'interno della SICAF per gli investimenti appunto mobiliari questa nuova subfund l'abbiamo chiamato azionario tematico questo perché abbiamo intenzione di investire in quelli che sono megatrend specifici potenzialmente in grado di influenzare l'economia e di produrre dei cambiamenti significativi legati a fattori strutturali quali sono ovviamente la demografia l'ambiente l'innovazione scientifica e tecnologica tra pochissimo questo nuovo subfund verrà popolato da investimenti ovviamente tutti gli UCIT e tutti investimenti qui mi ricollego all'osservazione che ha fatto chi mi ha preceduto che condivido in pieno ma proprio perché abbiamo dato questa specificità tematica gli investimenti che andremo a fare su questo subfund ricadranno tutti sotto l'articolo 9 della Sustainable Finance Disclosure Regulation Perfetto grazie Corrado insomma ha avuto anche modo di allinearsi con l'intervento di poco fa appunto di Andrea Mariani e a questo punto la parola passa ad Agostino Cingarlini direttore generale fondo pensione MPS che cosa ci racconta? Devo dire che la nuova normativa non ha impattato in modo significativo dal punto di vista dell'allocazione mentre invece impatta in modo rilevante per quanto riguarda tutti gli adempimenti successivi e soprattutto per quale potrà essere il modello attraverso il quale gli investimenti verranno realizzati in futuro il dibattito articolo 8 articolo 9 credo che sia un tema davvero rilevante dico non ha impattato in modo significativo perché il nostro documento sulla politica degli investimenti incorpora le scelte di investimenti socialmente responsabili già da un decennio e questo è stato la conseguenza di un referendum fatto tra gli iscritti quindi una scelta molto solida adottata molti anni fa e conseguentemente siamo storici firmatari anche di PRAI e Forum per la finanza sostenibile credo che la via sia una via che debba evolvere come dicevo noi avendo adottato questi criteri abbiamo mandati nei quali è già prevista l'individuazione di investibilità quindi la presenza di blacklist greylist e tutto il portafoglio è sottoposto costantemente ad analisi e fortunatamente gli strumenti che ne fanno parte sono tutti misurabili da questo punto di vista il problema credo che sia da un lato questa ipertrofia normativa a cui è stato accennato in precedenza e di conseguenza gli adempimenti a cui dovremmo sottostare credo che una grande attenzione possa essere rivolta non tanto a mandati di natura generalistica quanto piuttosto nelle scelte di investimenti diretti per cui tutto ciò che riguarda il tema dei private market credo che possa trovare una chiave di lettura importante e finalizzabile anche da questo punto di vista il tema della stewardship che dovrà essere valutato prossimamente credo che ci porterà a livello sistemico a fare delle scelte molto chiare in tutto questo vedo una grande attività da parte dell'SGR nuovi paradigmi che potranno arrivare attraverso una tassonomia comune sicuramente faciliteranno la soluzione di questo tema mi sembra che ci siano così tanti investimenti da parte appunto dell'SGR che questo diventerà il driver di allocazione sicuramente più utilizzato e conseguentemente anche quello che potrà diventare potenzialmente più funzionale a gestire un fondo pensione su un orizzonte temporale di lungo termine seguendo poi tutti gli obiettivi che il PNRR evidentemente definisce ma provando a trattare anche quei grandi temi che le dichiarazioni la dichiarazione di Parigi in poi evidentemente devono portarci a confrontare la nostra scelta con quello che sarà il futuro che vogliamo avere molto chiaro grazie grazie direttore abbiamo sentito e sappiamo bene come la gestione degli investimenti da parte dei fondi pensioni mira una minimizzazione dei rischi se questo è normale per qualsiasi tipo di investitore lo è ancora di più per gli istituzionali ora è proprio Edmond De Rothschild di cui Paolo Bordi è head of institutional sales è uno dei asset manager forse uno dei pochi asset manager che nella propria attività di gestione attraverso mandati applica il risk overlay un approccio che appunto ha il compito di monitorare e aggiustare costantemente la componente di rischio e allora Bordi torno da lei ci parli un po' di questo approccio e di questo risk overlay allora sappiamo tutti che il problema delle azioni è quello della perdita massima cui si potrebbe incorrere potrebbe incorrere il fondo pensione con conseguenze disastrose soprattutto sul tempo di recupero tanto che ciò potrebbe pregiudicare una fetta significativa della ricchezza pensionistica che i beneficiari accumulano negli anni e quindi più di recente in effetti con l'intervento delle banche centrali e poi anche con le politiche fiscali di sostegno quelli all'emergenza covid abbiamo visto che il mercato ha recuperato presto le perdite importanti che ci sono state in febbraio dell'anno scorso e gli investitori quindi poi hanno fatto bene a comprare sui ribassi ma in futuro chi può dire che le perdite massime saranno rapidamente recuperate è difficile dirlo veramente e noi abbiamo calcolato che una perdita massima del 30% ha bisogno di oltre 7 anni per essere recuperata se le borse registrano poi il 5% all'anno di rendimento e se la caduta dei prezzi azionari fosse dell'ordine del 50% come è capitato occorrerebbe addirittura il 10% all'anno per i successivi 7 anni per recuperare questa perdita quindi una strategia di copertura dinamica del rischio estremo quello che si chiama tail risk in letteratura ambisce a frazionare la perdita e quindi a ridurre i tempi di recupero facendo quindi ripartire il portafoglio pensionistico da un livello superiore dopo lo shock questo è l'obiettivo della nostra strategia di rischio per lei che direi più che il rischio per lei lo chiamerei piuttosto assicurazione dinamica del rischio estremo perché noi guardiamo solo il rischio estremo in questo caso non il rischio volatilità e la copertura però permanente del rischio estremo come per esempio l'acquisto di una banale put out of the money è molto costosa noi abbiamo stimato che nella storia questa strategia costerebbe nell'ordine del 5% all'anno quindi è una cosa non sostenibile per questo i programmi di copertura dinamica del rischio estremo usano un insieme blocchi di opzioni e sui indici azionari inclusa dei blocchi che vendono opzioni quindi si finanziano e permettono così di ottimizzare i costi di copertura infatti questi programmi che noi abbiamo di assicurazione del rischio estremo sono di tipo quantitativo si basano su degli indicatori però sono adattive nel senso che poi il rapporto di copertura ottimale varia a seconda delle condizioni di mercato e dei costi stessi della copertura che nel tempo variano a seconda anche delle valutazioni di borsa e della volatilità quindi è un è un'assicurazione direi piuttosto adattiva e non è permanente nel senso che permane la copertura del rischio estremo però il costo non è sempre uguale nel tempo e i risultati del nostro programma su un portafoglio azionario globale come un portafoglio con benchmark indice Morgan Stanley World e si dimostra che è stato che è costato 30 mesi spento all'anno ma ha ridotto la volatilità dal 17,6 dell'indice Morgan Stanley al 12,8 è la massima perdita che ha fatto l'indice Morgan Stanley negli ultimi 16 anni li abbiamo calcolati da quando ci sono le opzioni pubbliche il prezzo delle opzioni quindi ci permette di calcolare la strategia è stata del 55% quindi noi l'abbiamo ridotta al 38% dal 55% che è stata la massima perdita dell'indice Morgan Stanley World se consideriamo un portafoglio bilanciato con solo il 25% di azioni globali come spesso accade ai comparti dei fondi pensione la volatilità con la nostra strategia scende dal 4,2 al 3,5 abbiamo calcolato su base anno e la massima perdita da meno 10% a meno 6,4 e in questo caso il costo totale della copertura è stato di 10 basis point all'anno quindi questi numeri ci danno conforto ci fanno pensare che in effetti un programma di assicurazione dinamica del rischio estremo non del rischio totale come si dice della volatilità ma del rischio estremo è operativamente fattibile nel fondo pensione equivalente direi a quello di un mandato tradizionale con la differenza che in questo caso il gestore che opera nelle opzioni degli indici delle azionari nei mercati regolamentati quindi è un tra l'altro utilizza ai fini EMIR della direttiva EMIR degli strumenti di mercati regolamentati e quindi non aggrava il reporting del fondo pensione direi che l'unica differenza è il fatto che il rischio per le manager ha bisogno di ricevere periodicamente la posizione totale del portafoglio del fondo pensione come può accadere facilmente attraverso l'informativa della banca depositaria quindi è una cosa fattibile ed è una cosa che va considerata bene ci avviciniamo verso la fine della nostra tavola rotonda il campionato nascosto le strategie dei grandi investitori si avvicina anche il momento in cui ascolteremo un passaggio di un grande dello sport per vedere se le parole che ci racconterà si possono applicare insomma anche nella realtà aziendale diciamo così però un'ultima domanda da girare a voi è un tema spinoso e anche se insomma per cui meriterebbe magari un approfondimento molto più ampio però vi chiedo di essere in qualche modo sintetici il tema spinoso cioè il supporto da parte delle istituzioni verso la previdenza complementare e recentemente in questi giorni anche si parla di riforme da parte del governo proprio su questo tema qual è allora la vostra posizione sulle nuove proposte di legge Luca Ruggeri direttore generale fondo gomma plastica parto sempre da lei a me il calcio d'inizio esatto ma diciamo che l'ipotesi iniziale di riforma che prevedeva l'applicazione diciamo brutalizzando la realtà semplificando la realtà di una tassazione simile all'IRPEF sulle prestazioni era irricevibile detto con molta chiarezza ora non ho capito bene quale sia il punto attuale delle varie proposte per effettuare una sintesi noi siamo uno dei pochissimi paesi in Europa in cui i rendimenti finanziari dei fondi pensioni sono tassati e quindi già questo non livella il campo di gioco per usare una tipica espressione europea a mio avviso e guardando anche l'età media degli iscritti uno sforzo dovrebbe essere fatto per convincere i giovani a partecipare alla previdenza complementare nel loro bene perché le aspettative di pensione sono quelle che sono sulla leva fiscale è interessante ma non è l'unico mezzo e il mio timore è che poi dopo grandi declamazioni gli esiti siano o nulli o peggio nulli a livello fiscale ma con ulteriori complicazioni gestionali che su una fiscalità già non facilissima da comprendere per tutti spero di essere stato sintetico a sufficienza sintetico e direi anche piuttosto diretto insomma non ha lasciato dubbi sulla sua posizione direttore sentiamo Andrea Mariani direttore generale fondo pensione Pegaso vediamo se è così tranchant anche lui come collega partendo dal cantiere delle pensioni pubbliche obbligatorie che è il tema diciamo con cui in questi giorni c'è fortissima discussione il mio pensiero è che bisognerebbe capire che la stabilità è un valore quando si parla di aspettative pensionistiche cambiare continuamente le regole d'accesso alla pensione non facilita poi il nostro lavoro che costruire una pensione complementare se c'è troppa incertezza sulle aspettative relative alla pensione obbligatoria il nostro lavoro viene meno bene in più la cosa importante è che qualsiasi riforma si faccia sulla parte obbligatoria si debba anche coordinare la previdenza complementare spesso veniamo dimenticati anche con effetti paradossali quindi per me il primo punto di partenza è tenere insieme obbligatori e complementari sull'aspetto fiscale concordo con Luca non bisognerebbe intervenire sempre per dare stabilità al sistema se si interviene anche per via delle normative europee all'arrivo dei PEP quindi dobbiamo diventare un sistema E T non bisogna fare danni perché quella T finale non diventi peggiore del nostro attuale sistema bisogna capire anche come verranno armonizzati questi PEP che non creino distorsioni rispetto a noi che già esistiamo devono essere armonizzati e coerenti per non creare diciamo un campo di gara ineguale in ultimo bisogna trovare un modo per favorire l'adesione di chi è molto lontano dalla pensione quindi chi è più giovane perché altrimenti perde anni preziosi cioè passano 10 15 20 anni prima di capire l'utilità di aderire ma quegli anni non glieli fa recuperare nessuno in termini di risparmio pensionistico e quindi qualche forma di incentivo qualche spinta gentile qualche modalità che renda più facile l'adesione per chi entra nel mondo del lavoro è necessario nell'interesse di tutto il welfare italiano e allora sentiamo anche che cosa ci racconta Corrado Galeasso board del comitato investimenti immobiliari fondo pensione unicredit sul tema del supporto da parte delle istituzioni verso la previdenza complementare anche in virtù delle possibili riforme insomma da parte del governo su questo tema prego Corrado ma allora premesso che sono assolutamente d'accordo con quanto è stato detto da chi mi è preceduto dall'amico Luca e anche dal direttore di Pegaso per quello che riguarda la fiscalità perché i tecnicismi non aiutano assolutamente e e ti e ti quello che conta è il risultato finale il risultato finale è che non da adesso a mio giudizio il legislatore è in grande confusione quando parla di previdenza complementare perché da un lato si dice che bisogna favorire la previdenza complementare perché la pensione pubblica avrà tassi di sostituzione pari o inferiori al 50% ed è sacrosanto poi non soltanto con un utilizzo a volte veramente inconcepibile e incomprensibile della leva fiscale ma anche con una serie di altri provvedimenti che sono esattamente la negazione di quello che serve a promuovere una cultura previdenziale integrativa complementare in questo paese mi spiego meglio come si fa a dire a un lavoratore che si deve iscrivere perché dovrà avere dopo 30 35 40 anni una pensione integrativa e poi si introduce per legge la possibilità di chiedere un anticipo del 30% senza motivazione si va a proporre di avere il TFR che è la quota più consistente che se viene messo in un fondo pensione consentirà di avere un montante adeguato viene fatta una norma dove è consentito metterlo in busta paga ovviamente facendo il cumulo della tassazione non parliamo della rita provvedimenti anche sacrosanti ma qui stiamo parlando di welfare non di previdenza non confondiamo il welfare con la previdenza perché altrimenti se la previdenza complementare diventa un bancomat poi non ci si deve stupire se le persone fanno altri ragionamenti sull'adesione o meno e sulla convenienza o meno un ultimo particolare per quello che riguarda io spero che non vada avanti il sistema di riforma che è stato proposto ma andare a tassare in tassazione ordinaria quella che sarà una pensione integrativa rispetto alla pensione pubblica non solo in alcuni casi rischia di portare da un 9% a un 40% 42% l'aliquota marginale ma c'è di più poiché in Italia c'è tutto un sistema di bonus collegati al reddito il bonus casa il ticket il canone tv eccetera qual è il rischio che chi si è fatto una pensione ha pagato in anticipo magari sui rendimenti o paga la fine sull'aliquota marginale viene penalizzato perché fa cumulo rispetto a chi ha fatto la cicala e non la formica e poi avrà solo la pensione pubblica continuerà a beneficiare dei bonus cosa di cui non sarà possibile per chi invece ha la pensione integrativa veramente una follia quindi è necessario che queste cose vengano assolutamente come dire veicolate al di là di quelli che sono le iniziative come dire come la nostra molto tecniche settoriali perché queste cose secondo me vanno diffuse altrimenti la previdenza complementare resterà la cenerentola direi che anche in questo caso pochi spazi poco spazio a dubbi sulla posizione insomma di Corrado Galeasso sentiamo allora Agostino Cingarlini direttore generale fondo pensione MPS Cingarlini prego è difficile integrare quello che è già stato detto che è tutto assolutamente condivisibile l'esigenza di avere un sistema ordinato che metta insieme i temi della previdenza obbligatoria e quella complementare credo che sia imprescindibile così come il tema della usufruibilità di una posizione di previdenza complementare che oggi è soggettata a usi diversi con rischi impliciti legati proprio alla finalità stessa di una forma di previdenza credo che ci sia bisogno come ho appena sentito dire di uno scatto in avanti sulle competenze tecniche nell'ambito di questo dibattito perché il rischio è quello di integrare valutazioni riguardanti la previdenza complementare in un contesto di cui capisco evidentemente l'esigenza ma che rischia di essere fuorviante e se l'obiettivo è quello così come dibattuto anche in questi giorni di poter sostenere il ciclo di vita delle persone su una età pensionabile sempre più elevata credo che ci sia bisogno di maggiore profondità e maggiore possibilità di comprendere un tema già complicato con una fiscalità già articolata che rischia di diventare poi difficile da comprendere e conseguentemente non favorire l'adesione da parte delle persone più giovani evidentemente in effetti diciamo che al direttore generale fondo pensione NPS essendo stato sempre più o meno l'ultimo del giro ha avuto anche il ruolo più difficile perché poi si ritrova magari a esprimersi più o meno nella stessa direzione dei colleghi allora facciamo così a Paolo Bordi invece chiedo di intervenire per primo dopo che adesso vediamo appunto il contributo video dalla regia su su Julio Velasco perché come anticipato più volte chi ho questa tavola rotonda si ispira anche ai valori e alle strategie dello sport con le parole di un grande dirigente e allenatore che ha riscosso insomma grandi successi qualcuno lo ricorderà nella pallavolo e nel calcio ci parla di cosa vuol dire essere squadra lo sentiamo il primo che vorrei sentire a riguardo è Paolo Bordi poi sentiamo anche Agostino Cingarlini e poi tutti gli altri e allora regia prego con il contributo l'idea di squadra poi magari parleremo della seconda parte l'idea di squadra di spirito di squadra non è essere solidari non è tirare della stessa parte semplicemente una volta sono arrivato in un'azienda e c'era come poster il tiro alla fune tutti l'idea le squadre e quelli che tirano della stessa parte il tiro alla fune è una squadra povera non è sufficiente e il gioco di squadra significa un gioco dei ruoli e rapporto tra i ruoli allora io sono molto bravo a fare una cosa e accanto a me gioco un giocatore che è bravo a fare un'altra cosa e insieme ci complementiamo e funziona non è semplicemente abbiamo unità di intenti tutti tiriamo della stessa parte il gioco di squadra è un metodo di lavoro non è l'unico possibile però è un metodo che ha le sue regole e quel metodo anche deve essere consapevole noi dobbiamo sapere come vogliamo giocare in quel gioco qual è il ruolo di ciascuno se le cose vanno bene come funzionano e se le cose vanno male come funzionano quando qualcosa non funziona nel gioco cerchiamo i problemi o cerchiamo i colpevoli e quest'ultimo passaggio è sicuramente emblematico però in sostanza Velasco dice ognuno interpreti al meglio il proprio ruolo più che tirare dalla stessa parte remare dalla stessa parte ad esempio il tiro il tiro alla fune è così vale anche per la realtà aziendale Paolo Bordi per primo assolutamente e tra l'altro siccome posso raccontare di realtà aziendali diciamo europee per noi è importantissimo saper giocare in squadra a livello europeo cioè saper capire qual è il ruolo del team italiano all'interno del team europeo come si confronta con il team tedesco e francese penso che questo possa essere anche valido a livello politico nazionale e penso che per i miei figli un governo italiano e dei politici italiani che hanno capito come giocare in squadra con gli altri paesi europei sia molto promettente bene bella bella riflessione quella di Paolo Bordi Agostino Cingherlini vengo vengo da lei è un peraltro un concetto che può magari sembrare simile quello lanciato da Velasco tirare tutti dal remare dalla stessa parte ognuno interpreti bene il proprio ruolo però effettivamente una differenza una differenza c'è anche ricordando il finale di passaggio cioè ci vogliamo cercare colpevoli o vogliamo cercare le soluzioni ai problemi prego prego Cingherlini Belasco è sempre mirabile peraltro in queste rappresentazioni su che cosa sia una squadra e quali siano i ruoli credo che nella sua dichiarazione che il gioco di squadra è un metodo ci sia un po' all'essenza della filosofia che dovrebbe stare alla base di qualsiasi condizione nella quale lavoriamo in un sistema è vero cercare i problemi individuare i problemi o cercare i colpevoli è normalmente la modalità dalla quale possiamo uscire vincenti o perdenti se dobbiamo metterla nel nostro sistema e guardando le riflessioni che sono emerse questa mattina credo che di questo gioco di squadra ci sia bisogno siamo talvolta portati a confondere i ruoli e invece credo che la direzione che dovremmo prendere dovrà diventare sempre più sistemica per quanto riguarda il mondo che genera la previdenza complementare come investitore coniugata sicuramente con il mondo dell'asset management il rischio è di stratificare le complessità mentre credo che sarebbe necessario andare a individuare le opportunità nella partita che ciascuno gioca esattamente nel proprio ruolo e per fare questo momenti come quello che stiamo tracciando questa mattina mi sembra saranno sempre più importanti per trovare una via di consapevolezza sentiamo Corrado Galeasso anche su questo tema non so se lei è capitato anche di fare il tifo per le squadre allenate da Julio Velasco ma al di là di questo piccolo dettaglio la realtà aziendale come si può applicare questo concetto anche a una realtà aziendale Galeasso prego io ero già grandicello quando Velasco portò un'Italia tecnicamente scarsa a vincere la medaglia d'argento ai mondiali a Roma direi che da quel punto di vista rimane un maestro insuperabile perché poi per anni ci fu una crescita ma lui raggiunse un risultato di eccellenza secondo me al di là delle parole che sottoscrive e condivido in pieno ma lui ha avuto un'abilità in più che non ha detto cioè lui col gioco di squadra oltre a far giocare tutti nel posto giusto e come ha detto più che tirare tutti dalla stessa parte ciascuno deve fare quello che sa fare ma il valore aggiunto che vale per lo sport ma vale anche nel nostro in qualunque attività lavorativa o meno è tirare fuori grazie alla squadra grazie allo spirito di squadra quel qualcosina in più che individualmente noi non tireremmo fuori questo è il vero valore aggiunto poi la mia esperienza mi porta a dire che invece per tanti anni e adesso forse qualcosa sta cambiando nelle aziende e non solo nelle aziende nelle varie organizzazioni associazioni in cui ho avuto modo di militare lo sport preferito era la caccia al colpevole non la soluzione degli errori o delle criticità forse anche su questo qualche passo avanti si sta facendo mi auguro di sì però ovviamente non posso che sottoscrivere anch'io quello che deve essere un impegno a far sì che con la squadra con i ruoli e soprattutto con le competenze di ciascuno si ottenga i risultati migliori Andrea Mariani questa volta la faccio intervenire prima del suo amico Luca e insomma anche il concetto di mettere nelle condizioni il proprio giocatore di fare il meglio di far sì che lui renda il meglio di fare la cosa in cui è capace di più insomma mi riporta un po' a quando magari c'era la querelle tra insomma Roberto Baggio o Beppe Signori che nel Mondiale 94 Signori veniva fatto giocare a centrocampo Baggio giocava in un ruolo magari non suo e insomma lì ci siamo un po' divisi tutti quanti insomma l'Italia in particolare prego Mariani parole preziose quelle di Julio Velasco che bisognerebbe risentire in tanti ambiti della propria vita ci spinge a guardare avanti e non a guardare indietro nel senso non cercare i colpevoli ma a trovare soluzioni per migliorare quindi usare quello che succede per migliorare quello che potrà accadere per il fondo pensione io vedo due prospettive una quella interna noi siamo degli allenatori abbiamo piccole strutture abbiamo tanti outsourcer quindi mettiamo in campo anche campioni gestori anche molto importanti gli diamo ruolo costruiamo una tattica capire come sono complementari come funziona la squadra nel suo insieme è un po' il ruolo del fondo pensione negoziale però ci aggiungo anche un'altra prospettiva che è quella di un settore che se gioca insieme è molto più forte ossia noi come fondi negoziali da soli non abbiamo una grande forza ma se ci mettiamo insieme sappiamo fare il gioco di squadra abbiamo una capacità di incidere a tanti livelli quindi sia una prospettiva interna che un'esterna parole da riascoltare sicuramente con frequenza Chiudiamo con Luca Ruggeri fondo gomma plastica Condivido quello che hanno detto tutti gli altri utilizzando la prospettiva di Andrea all'interno non è semplice strutture piccole riuscire a segmentare bene il lavoro è comunque una sforza che va fatto anche per chiarezza per responsabilizzare per attribuire a ciascuno una sua funzione non per cercare i colpevoli ma per aiutare le persone a crescere e anche per motivarle un po' di più per far sì che l'aspetto di squadra venga percepito con chiarezza Condivido anche la parte sulle possibili sinergie tra i fondi i fondi tra i vicini dello stesso settore secondo me possono fare molto insieme le due esperienze ultime di Irid e Zeffiro secondo me sono indicativo di quello che una volta sarebbe stato impensabile di fatto e che invece con fatica ma è stato fatto e che apre qualche prospettiva poi mi taccio essendo l'ultimo ostacolo al pranzo di tutti grazie Luca Ruggeri insomma una partita quella che abbiamo giocato oggi nell'ambito del campionato nascosto che vedete nel titolo e delle strategie dei grandi investitori che di fatto è durata 90 minuti quindi siamo stati anche bravi nel rispettare tempistiche appunto sportive calcistiche in questo caso beh non mi resta che ringraziare i nostri ospiti che hanno arricchito il nostro spazio e quindi Luca Ruggeri chiedo scusa direttore generale Fondo Gomma Plastica Andrea Mariani direttore generale Fondo Pensione Pegaso Corrado Galeasso bordo del comitato investimenti immobiliari Fondo Pensione Unicredit eccovi qui tutti quasi tutti Agostino Cingardini direttore generale Fondo Pensione MPS Paolo Bordi Head of Institutional Sales Edmond De Rochil da voi un ringraziamento e con voi ci vedremo e ci risentiremo presto per future tavole rotonde insieme grazie ancora e buon proseguimento arrivederci arrivederci grazie arrivederci buona giornata adesso ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario al rientro c'è No Habber quindi rimanete in nostra compagnia a Grazie a tutti.